La mancia, l'argo va a sostenere! E a capta di amare, sfira bagasta! Ora andarai! Alla tuttazza dove vostè presenta il sacrificio della mancia e va subire l'olore alla presenza di Dio, è necessario che gli adore! Andare di questa mancia, andare, andare! Andare andare! Non c'è un po' di questa mancia! La Iglesia ha perduto la orazione della vera! Però questa l'orazione va recuperare il poder! Va recuperare! E a capta di amare! 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 A capta di amare! si noi dobbiamo e se qui è 28 e isai 14 va a parlare di lui Lucino Satanà era il adoratore del cielo che fu creato solo per adorare il adorare era un criollino di luce, un vomito per un giorno la soberbia e il orgullo e il coraggio di lui era mandare e io fui a parlare di lui e io non voglio adorare ma il creador, io voglio che mi adorare io voglio che mi adorare a mi e io voglio subire e voglio mettere il trono allà nel estrado dove sta il e voglio che il levante la adorazione per a mi, io non stava preparato stava creando per adorare e il Signore lo soporto perché il Signore è tardato per la ira lo che la Biblia dice con le ultime contradiccioni che mi stava lanciato fuori e si che lo fai solo una vez poi varias veces que se había revelado no quería adorar al Creador no quería adorar no quería adorare lo che si no di numero la Palabra è un poder la Palabra è di呢 la Palabra è di Wisconsin che parla è il he no le dobbia e sabera il beso allà nel cielo dicendo io non vi adorare mai io non vi adorare mai non vi adorare mai credo non vi adorare mai il Signore soporto 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 e il pensò che il Signore il Dio del Cielo mi ha detto per favore cantare una ma cantare adorare il Signore soporto e come lo chissi e dice ah bene mi va adorare bene, ora fuori e fuori a la Tierra come un pedazzo di barro e formato del Arraba Shai e formato un pedico este va a ser per mi gloria e chanana salió fuori cayò a la Tierra e formò al hombre para la manza para la gloria para que la adore para que le levante per questo quando ve a un adoratore hermano si el Dio Broca gloria a Dio e non mi gusta que godiga le luia e non mi gusta que godiga le luia a Dio e encima usano esas persone che stanno sentate e dice posto maldolento para posto desordenado desordenado del peccato robando mintiendo per adorare a Dio del peccato e a la magalla del peccato del peccato del peccato Grazie a tutti.